Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono CinaBiondo, oggi a voi vi porto l'evoluzione di Esperone, ovvero di Esperdum. L'evoluzione consiste nel mettere il quarto colore, farle lo spescino di verde e direte perché, ma ne vale la pena? Lo scopriremo subito. Innanzitutto vi comunico che, come al solito, i miei gameplay sono supportati da Multiverse of Games, negozio di Cesano Maderno, il mio preferito, il più grande e il più bello di tutti. Dopo sta marchetta, ciao Michele, dopo sta marchetta, questo è un mazzo che è stato portato da Tianfamun, ha fatto un bel 6-0 ai Star City Games, ai Satelliti, con cui si è preso 2 buy, si è qualificato il qualifier del mese dopo, va bene. Inoltre, l'ha portato Mengu, l'ha portato Nassif, e quindi il nostro Tian sta diventando una celebrità in tutto il mondo. Io lo dico perché lui poi fa il timido. Detto ciò, la variante è semplicemente mettere Binding of the Old Gods al posto di Expert Conqueror's Death. Ne abbiamo parlato un po', io l'ho chiesto, io ho detto, ma ne vale la pena splashare un colore, quindi renderlo un po' meno solido per una spell che costa 1 in meno, che fa più o meno la stessa cosa? Io mi ho detto sì, in quanto attualmente il meta è molto creaturoso e abbastanza aggressivo. Quindi a volte a turno 5, soprattutto se l'oppo parte l'oppo, non ci arrivi. E quindi questa è una rimozione che praticamente rimuove le stesse cose, ma ti permette di castarlo un turno prima, che è una cosa che cambia veramente tanto le partite, e anch'io mi sono accorto di questo. Cosa fa? Distruggere un permanente non terra bersaglio, a 2 ci fa rampare, quindi ci fa cercare una terra, ci fa mettere su campo di battaglia, e a 3, vabbè, le creature che controlliamo guadagnano Death Touch. Cosa non per forza indifferente, perché abbiamo modo di fare creature con questo mazzo, per quanto sia un control. Bene, abbiamo sicuramente Iorion, che vi farò vedere in uno di questi game, vi faccio vedere il giochino del doppio blink, credo che sia nell'ultima partita con Mono Red. Basta tenere lo Iorion che è già in campo, usare l'abilità di blink dello Iorion nuovo, blincare tutto, così si fanno due blink. 4-5 a costo 5, companion, può essere giocato come companion, quindi di side, però prendibile dalla side a costo 3, se giochiamo almeno 20 carte in più, quindi 80 carte. Quando iniziamo sul campo di battaglia, blinchiamo, cioè, me l'hanno chiesto in tanti, perché è un termine un po' specifico, vuol dire esiliare dei permanenti, e poi farli ritornare sul campo di battaglia. Questo è un blink. Negate, counter, è abbastanza importante nei match-up contro i vari Sultai, e... che altro Sultai? È un counter decisivo, ci permette di guadagnare quel turno, per fargli magari un dance of the man's super gigante. come 9 si, importantissimo, in quanto è il peschino più forte del formato, permette di fare scry 2, quindi guardare le prime due carte, decidere se tenerla in cima o metterla in fondo, cambiare il loro ordine, e poi pescare una carta. Inoltre, se la sacrifichiamo, pagando 3, ci permette di fare ulteriori scry 2. Eliminate, distruggere una creatura, o un place walker, costa 3 o meno. semplice, efficace, immediato. Heartless Tact, un'altra rimozione fortissima, attualmente forse è meglio addirittura di Eliminate, in quanto ci sono molti pezzi grandi, e questo distrugge un po' tutto, perché distrugge a qualsiasi creatura senza segnalini, oppure rimuove 3 segnalini da una creatura bersaglio. Dopodiché abbiamo il Golden Egg, l'Ovetto. L'Ovetto sale a 2, fondamentale in quanto ci permette, aiuta anche a fixare il colore, quindi ci aiuta a fare un colore che magari ci manca, perché quando entra in scopo di battaglia peschiamo, ed un artefatto costa 2, quindi rimane in campo, quindi questo è blinkabile da Iorion. Inoltre, se paghiamo 1, la sacrifichiamo, possiamo fare un mana di qualsiasi colore, quindi ci aiuta magari, con una mano che manca un colore, magari ci manca il verde appunto per binding, di fare il verde che ci serviva, e inoltre è molto flessibile, perché ci permette di guadagnare 3 vite, se la dobbiamo sacrificare pagando 2. Dance of the Mans, questa è la nostra chiusura più forte, in quanto permette di far ritornare dal cimitero, X artefatti, con quanto abbiamo pagato, quindi noi in base alle X che paghiamo, rianimiamo X artefatti, o non aura, incantesimi non aura, con mana convertito, X o meno, quindi una per tipo, tendenzialmente facciamo molto spesso, però in realtà possiamo anche farne tante diverse, tante uguale, 6X che abbiamo pagato è 6 o superiore, quindi in totale la spell abbiamo pagata 8, tutti i permanenti che riusciamo a rianimare così, dal cimitero, rientrano come 4-4, quindi, immaginatevi, binding, binding, doom, doom, peschino, peschino, ovetto, ovetto, tutti i 4-4 entrano, pescano, quindi gigante, chiusura fortissima, omen of the sun, l'incantesimo a costo 3, flash, quando entra sul campo di battaglia, fa due segnalini, uno a uno, e ci fa guadagnare due vite, inoltre se la sacrificiamo, facciamo scari due, come l'omen blu, espelt nightmare, questa è una saga, quindi quando entra sul campo di battaglia, entra con un segnalino, e ogni volta che peschiamo, gli mettiamo un segnalino in più, il primo segnalino, distrugge una creatura, dell'avversario, con forza, due o meno, molto forte contro granchio, molto forte contro rogue, molto forte contro i pezzi piccoli, a due, col secondo segnalino, l'avversario ci rivela la sua mano, e noi possiamo scartare una carta non creatura, e non terra, e tra l'altro quella carta, ed è importante, e a tre, il terzo segnalino, gli esiliamo un cimitero, quindi, questa è molto molto importante, Trichor's Blessing, molto semplice, con diretta sul campo di battaglia, pesca 3, ma, il suo malus, praticamente, è il fatto che, ogni volta che lanciamo una magia, perdiamo una vita, ma, se questo viene bersagliato, da una magia, o da un'abilità, la dobbiamo sacrificare, The Raven's Warning, questa è una carta, un po' brisfrattata, una rara, un po' brutta, che sembrava brutta, invece, a mio parere, molto molto sottovalutata, in quanto, a uno, la saga ci permette di fare un 1-1 volante, guadagnare due, quindi, è anche un mezzo omen, va in ridondanza, con l'effetto di omen bianco, a due, ogni volta, che è una creatura, che controlliamo, con volare, fa danno, il combattimento, a un giocatore, peschiamo una carta, l'ultimo effetto, è fortissima, perché, praticamente, noi, ci permette di prendere una carta fuori dal gioco, quindi, è anche una carta che c'è, magari, già un esiliato, o, dalla sideboard, mettercela in cima al mazzo, quindi, in sideboard, abbiamo Dance of the Mance, e ce la mettiamo in cima, al conte, 3-4, costo 4, volare, legame vitale, e, tutte le pegasi, che controlliamo, hanno legame vitale, con constellation, ovvero, ogni volta, che un incantesimo, entra sul campo di battaglia, creeremo un 2-2 volante Pegaso, incredibilmente forte, extinction event, fondamentale, vratina a questo 4, ovvero, uno sweeper, ovvero, una carta che riesce a togliere più creature, sul campo di battaglia, nello stesso momento, quando risolve, scegliamo, o pari o dispari, esiliamo tutte le creature, con costo di mare convertito, pari o dispari, ricordandoci, che lo zero, conta come pari, doom foretold, questa è una carta, che dà il nome al mazzo, in quanto un incantesimo, quando, che dice, che ogni mantenimento, di entrambi i giocatori, quel giocatore, deve sacrificare, un permanente non terra, e, se non può, allora, noi, creeremo, un 2-2, con cautela, l'avversario, scarterà una carta, e noi pescheremo una carta, quindi, quando non può, facciamo un valore, sesco, binding of the gold, of the old gods, l'abbiamo detto prima, abbiamo, Emeria's goal, che, è una terra modale, fa due angeli, 4-4 volanti, ma l'effetto secondario, che molti si dimenticano, è il fatto che, tutte le nostre creature, rimangono indistruttibili, fino al prossimo turno, quindi, fin, quando lo facciamo, nel turno dell'avversario, sono ancora indistruttibili, le nostre creature, tranne gli angeloni, e altri, tra gli orion, la mana base, abbiamo notato, che abbiamo, molte terra triple, quindi, bene o male, non ho riscontrato, problemi di mana, e inside, il vero, ci permette di mettere, chain web arachnir, che, ci permette di, aiutarci a vincere, il matchup, più difficile di tutti, che è, rogue, quindi, ragazzi, andiamo a giocare, permetto che, la prima partita, che ho messo, l'ho persa, ma, per cappellate mie, però, è che, ho sbagliato a fare la ladder, e ho messo historic, e ho beccato il tier 1 dell'historic, ovvero gruul, e io, giocando un mazzo standard, avrei battuto gruul, se avessi giocato bene, per farvi capire, quanto è forte sto mazzo, quindi, ragazzi, iniziamo, scusate, se sono stato un po' proliss, ma, volevo spiegare bene, i cambiamenti, e le scelte, che sono state fatte, buone partite, una mano fortissima, se, giochiamo contro, contro aggro, fa cagare, se giochiamo contro, un mazzo Iorion, eh, forse, è una mano utile, dai, mo facciamo, sperando che sia un aggro, ok, ok, dovrebbe essere gruul, la minchia, ah, tra l'altro, mi sa che ho sbagliato, la prima partita, mi sa che è historic, tra l'altro, vabbè, vabbè, dai, dimostriamo che il mazzo è forte, anche, in historic, se, vai, se, se, e io quell'altro, dello sparo, mettiamo un altro trioma, giochiamocela, scialla, 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 dobbiamo giocarcela, potremmo anche, rimuoverglielo, ok, forse c'è quest in beast, va bene, rimuoviamo azione su quest in beast, sarebbe forte pescare un uomo in bianco, un uomo in blu, adesso, peccato, peccato, quella da bian, ma si, facciamoli sto doom, doom de de doom de de doom, forse dovevo fare heartless act, però volevo essere più mana efficient, più efficiente di mana possibile, perché il prossimo turno volevo fare terra into, questo posso, con questo posso ciclare, con questo posso rimuovere minaccia, però questo è forte perché magari se lui gioca qualche planeswalker, tipo c'è androna, è un po' un problema, va bene, va bene, accetto, beh, chiaramente, la carta dopo era quella, va bene, in tal caso, non facciamo niente, perché preferisco fare omen, preferisco fare omen into heartless act, beh, dipende cosa fa lui anche, ok, terra mi va bene, questo in beast no, te lo rimuovo, mamma mia, quello l'hai fatto, zi, però il mio omen bianco, guadagno ste due vite, l'unica mia paura, è amber cleave, io ho visto molto bene, il prossimo turno è anche, non è neanche malissimo, fare tipo, dance per fare, solo doom, perché poi nel nostro possiamo, toglierci il, il treacher, il blessing, che ci fa danno, ok, immaginavo che ci avevi amber cleave, maledetto, va bene, va bene, va bene, va bene no, però, in tal caso, mi sa che facciamo bianco, così, binding, si toglie la, si toglie sicuramente la, la lì, tanto se c'è quest in beast, non bloccano, quindi si attacca, l'unica, si fa, chiaramente, magari c'è il preterra, ok, almeno quello, ok, mmm, facciamo questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pam, 8, 8, facciamo le nostre bestie, andremo a 2, stiamo sotto, stiamo sotto, buon crusher, però, ci si può provare, dai, ok, prossimo turno, mi saccherei l'ovetto, cazzarola, cazzarola, ah, sperando che non abbia Embercleave, ah, Mizz, ce l'avevi, maledetto, doppio Embercleave, bravo lui, doppio Embercleave, probabilmente devo fare Iorion, devo giocarmela più safe, fare Iorion, vabbè, l'ho sbagliato io, però, se non giocavo sbagliato, un mazzo standard, batteva il tier 1 historic, eh ragazzi, è questa mano, molto buona, manca di qualche colorino, ma lo facciamo subito, dai, sarebbe forte se potesse sfacciare sulle triple, questa qui, ah, se è monowhite, vediamo di no, what color vi facciamo, per ora, prendiamo il verde, dai, eh, nero sicuramente ci servirà, l'ovetto per fixare, abbiamo un altro, ok, perfetto, con questo facciamo bianco, il piano è fare Omen bianco, e poi pescare un bel Doom, Doom lo manda su Marte, uh, mamma mia, Omen of the Sun qua, letale, minchia, pensavo che mi mettesse sopra Maglio, mmm, bellissimo anche così, lui attaccherà, io farò il mio Omen, guadagno 2, blocco, blocco, lui deve scartare, inghia, si è scartato l'angelone, mizzega, mizzega, è importante il discard di angelone, o c'è un altro season da low blade in mano, blu, così facciamo quattro colori al turno quattro, sperando che non abbia il bounsino, even, non ce l'ha, bene, molto bene, 2 per 1, facciamo questo 2 per 1, e, buona, e face, andiamo a un altro, va bene, adesso mi sarà un'altra terrina, o Doom, andiamo a cercare la terra, però, di solito sapete anche voi, che gli Omen non sono dalla mia parte, tecnica finale del pianto, ha funzionato, mi andava bene qualsiasi terra stappata, tanto c'ho lui che fixa il colore, al limite, qua, probabilmente ho sbagliato, devo prendermi in mano, Iorion, però, vabbè, ma niente, mamma mia, è un altro, è incazzatissimo, è che non lo voglio far pompare, però è più, mano efficient, fargli Omen of the Sun, molto più efficiente, fargli il doppio blocco così, al massimo, si sacca il cagnolino, va bene, se si sacca il cagnolino, il prossimo turno, posso fargli comunque, tante rimozioni, penso, attenzione, preferisce scartarsi la carta dalla mano, giocata, non approvo io, sono sincero, non approvo questa giocata, forse non dovevo farlo pescare, però vabbè, ok, brutta, brutta, e facciamogli sto eliminate sopra, devo fare di Heartless Tact, qua ho sbagliato, se lo salva di cagnolino, adesso prendo una caterva di danni, 10 danni, proprio se non tu non recupero un po', recupero anche il board, quindi va bene, dai, un Doom sarebbe molto forte, anche lui, però, preferisco fare Iorione, comunque prima ho sbagliato, devo fare di Heartless Tact, eliminate più forte in questo matchup, ah, così, concede così, blinco 4 concede, va bene, accetto, Kippo, 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 Terra Tap, Terra Stoppata, abbiamo Extinction Event, lui probabilmente è Monored, che non è partito di drop a 1, quindi, stop, partirà di drop a 2, Robben, Rimrock, Rimrock è anche più difficile di togliere da Robben, Robben di Robben, però, uh, Extinction Event, number 2, no, sotto sotto, number 2 comunque, avevo 12.000 in cima, va bene, mmm, non voglio perdere vite, facciamo così, dai, spero che non mi faccia Anax, spero che mi faccia un altro drop a 2, così faccio Extinction Event, poi mi fa un altro droppino, qui faccio Doom, ok, preferisco di gran lunga che mi facesse Rimrock sopra, faccio il secondo Rimrock, in realtà, quindi forse dovevo forzargli, dovevo fargli un gioco psicologico, ma la terra la voglio, almeno 5 ce ne vogliono, per far girare sto mazzo, sicuramente ne pesco un'altra, però, bavini, mi farò Doom, Doom lo stalla un pochino, si toglie Rimrock, sicuramente, io spero, spero vivamente che lui mi faccia, un altro drop dispari, tipo Anax, no, anche Fenicella, spero che non mi faccia Torbran, Torbran qua mi fa male, vabbè, almeno non ha Amber Cleave, cioè non mi può fare Amber Cleave, magari ce l'ha in mano sicuramente, però non me lo può fare, se la gioca così, vuol dire che c'è un altro drop da farmi, e sono, va bene, e mi va bene, come cosa, va benissimo, se la giochi da barn, se te la giochi da barn, mi sa che mi prefer, mi sa che qua preferisco guadagnare vite, però non mi piace, preferisco giocarmela safe, preferisco giocarmela super safe, preferisco che mi faccia, si sa, Crifichi Bone Crusher, che a me va benissimo, mi faccia un bel pezzettone, io faccio Heartless Act sopra, mi sacrifico Omen, lui nel suo, l'hai fatto, farei quei due mana, che ti devo di, questi danni non me li posso, questi danni non me li posso permetter, chiaramente, tolgo Omen, voglio, eh, un po' goloso eh, gli faccio doppio Omen, almeno pesco due, guadagno quattro, lui deve scartare due, magari pesco pure una rimozione, ma anche un Omen blu non è male, se lui si deve scartare due, è fortissimo comunque di base, guadagnare quattro vite, almeno recupero i danni che mi ha fatto il suo botto, effettivamente non è male giocare botto adesso, buono, questo è un botto in meno eh, Bone Crusher è molesto, e poi cosa mi scarti di bello, mi fai Bone Crusher qua, e scarti l'altra carta, poi mi fai quattro tre, accetto zio, ti giuro che accetto, Frostbite, ok, ok, interessante Frostbite, non posso fare tre Asher Rose, purtroppo, spero in realtà che mi faccia un doppio Bone Crusher, questa mano, Fervent mi piace, Fervent ci piace, 10, in casa di tuo Rimbrock, un altro botto, avevi un altro botto in mano, vabbè, io, faccio omen, umile, metto in cima rimozione, faccio rimozione, tanto i miei due cavallini, hanno, hanno cautela, quindi, se mi dovesse fare, il Robin of the Rich, spacchiamo Monored, zio cantante, questa mano la tengo, solamente perché sono partito io, perché posso fare, terra tappata, terra, omen, magari trovare una terra stappata, fare questo, poi fare binding, binding, Iorion, mi sembra un buon piano, l'importante, che lui non parta con drop a 1, vai con Kalmad, aia, 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 vabbè, eh, non sono contento, però, eh, il charger, molesto, anche lui, se drop a 2, brutto gesto, però drop a 2, oh, va bene, gate una cartaccia, ah, questo non mi dava blu, ups, non mi dava blu, con la carta di, allora sono un babbazzo, no, no, sono un babbuz, fa male, sono un rincoglionito, vabbè, eh, sono un rincoglionito, perché qua perdo due turni, sono un rincoglionito, pensavo in desse blu, minchia, ma questi triomian, tutti gli stessi colori, non riesco a capire, no, in realtà, sono una scusa, sono uscito, scemo io, eliminate, vabbè, non sarebbe mai un extinction event, per salvare la mia sfaccata, ah, Rimrock, c'hai, e sta, mh, devo prendere blu, perché è triste, sta cosa qua, binding, il prossimo turno farai anche i raven, così guadagno due vite, omen, poi faccio iorion, no, devo fare già iorion adesso, anax, non sono contento per nulla di anax, chiaramente, eh, prendiamo questo, che almeno c'è il blu, allora, allora, minchia che babazzo comunque che sono, ma questo dà bianco almeno, così posso prendere verde, minchia, io se la perdo, e la metto lo stesso, perché sono troppo scemo, sono troppo un rincoglionito, spacchiamo anax, giustamente, mo potremmo pigliarci un amber cleave sui denti, magari se lo fa su di lui, magari con una rimozione pure, se attacca con tutto, c'ha amber cleave sicuro, noi blocchiamo quello che fa più danni, vabbè, quello che fa più danni, quello che potenzialmente ci può dare più fastidio, rimrock, amber cleave, rimrock into amber cleave, sei un campione, ma se c'è solo removal, mi va bene, mi va bene, mi sta bene, almeno quei tre danni non sono stati fatti su di me, quindi mi va benissimo, allora adesso, un altro iorion, ottimo, un altro iorion è ottimo, ma ce la faccio a fare sia questo che iorion? no, no, questo, è peschino, e poi facciamo iorion, dai, aiaiai, è doppia removal, allora ce la giochiamo un po' safe, dai, guadagniamo ste due vite, facciamo sta rimozione su Vito, devo tenermi la rimozione, secondo me, perché, eh sì, ho sbagliato anche qua a giocare, oggi sono un po' a fuso, scusate, dicevo l'allenamento di box, e, sono spaccato in due, no, qua dovevo semplicemente passare, e fare la rimozione del suo, perché lui magari, io bloccavo sicuramente il tre, uno, lui magari fa Embercleave sopra tre, uno, io lo spacco, mi fa tre danni, bella lì, binding, terra binding, iorion, ci vediamo su Saturno, no? Invece così, rischio di perdere, come al solito, perché sono un babbo, non so se questo turno posso perdere, già con uno shock, first reaction shock, eh, così, va bene, questa è la cosa migliore, che vi potesse capitare, ce la faccio farlo, la settimana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e dai, anche perché poi guadagno due vite, si, 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 guadagno due vite, faccio un 1, 1 che può bloccare, faccio un'altra rimozione, ok, sul pezzo più pericoloso, perché c'è a first strike, guadagno due vite, extinction event, adesso forse no, o forse si, ho gridato un po' a togliere il mio extinction event, carragan, va bene, non è un problema, perché io gestisco con earthless act, questo turno invece è gigante, faccio un turno gigante adesso, perché c'è il secondo Iorion, quindi posso fare il giochino del doppio blink, quindi posso fare il doppio attacco attacco, pesco pesco, se con l'1-1 potevo stare, rimanere un po' più umile, c'è doppio torbrano in mano, comunque anche il fatto di poterli vedere la mano, in un mazzo control, è fondamentale, zio bricco count autore, come dice il mio concorrente preferito di Masterchef, allora, tengo lui, quindi vedete ho tenuto quello che era già sul campo di battaglia, quindi con l'effetto in trigger posso fare così, posso blinkarlo, perché sto brincando un altro Iorion, è un po' contorto lo so, così bam, rientra tutto, facciamo altre due vite, andiamo a 9, bacchiamo il 3-1, peschiamo, pescare è sempre bello, beh, Doom è bella carta, e posso ri-ri-blincare tutto, così nella hand sua gli spacco un altro pezzo, nel dubbio, così si fa cose brutte, Terra Thorbran, oh no, oh no, oh no, Terra Thorbran, oh no, bam, altre Raven, Raven, pesco altri due, no, via Extinction Event, non mi serve più, turno mio, vanno a due, pesco, qua, potrei anche fare la giocata un po' flex, facciamo la giocata greedy, dai, wow, ti facciamo doppio Doom, e diciamo, vai, caro, prego, prego, che fai, che ti faccio scartare due, guadagnare, guadagnare quattro, fare due due due, ho pure Omen of the Sun in mano, beh, questa è una partita molto vinta, notare che, questa versione qua, molto, un po' più, con le spell un po' più cheap, mi è piaciuta un sacco, eh, ti permetto anche di girarmi una prima carta del mazzo, passiamo, vabbè, o meno che sì, oppala, tra l'altro ci possiamo mettere in cima Dance, Ezzi, incredibile, comunque 10 minuti di matchup contro Bono Red, no good, e, perché no,